Non mi sembra un posto, me l'ha detto un prete, dice quando distrugge un Israele è tempo di andarsene da Roma, mi ha detto, però prima distruggeranno l'atropia, orazio, quelle enclave delle marche che tu dicevi, sta registrando, quella che si chiama Montemperto, aspetta che in quest'aula non è stato fatto niente, si chiama Montemperto, quelle enclave, ti ricordi quelle enclave di cui parlavi tu, cioè quelle enclave delle marche, di 100 ettari, in realtà, appare che sia un pezzo del comune di Città di Castello, ma non so dei predi, dei frati, come dicevi, è proprio il comune. L'avranno fatto dopo, inizialmente c'era una passiva. Ecco, adesso il comune l'ho visto, cioè partiamo con me, tant'è che il solito è un po' appreso. Sto parlando del 1880, 1890, quando hanno fatto la nuova, la nuova cazzo. Allora, qui ecco, se volete sentire. Quanto dura? Eh, dura un po'. È un capitolo importante, capitolo molto importante. Io e noi dove andiamo? Eh? Di noi non c'è più. Vabbè, ma ne intendo un po'. E allora io, se lo dico, prese che tu lo portate. Grazie. Sì. E veniamo a trovare la notte. Sì. Vediamo. Ah. Ciao, ragazzi. Poi mi chiami, ci mettiamo la torta. Sì. Ok. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, Pietro. Pietro. Allora, questo è... L'ultimo capitolo del mio libro, Arma, Letale, ovvero per il reale sociale, che è il sulto, diciamo, concentrato di alcune delle... teorie che avevo, diciamo, preso in considerazione, in precedenza, nello stesso libro, in considerazione alcuni aspetti importanti, diciamo, della gestione attraverso la moneta, dell'economia che è anche della società in generale, perché attraverso l'economia compri chi vuoi, fai inserire la gente, con i servizi segreti, quello che vuoi, ma io l'ho conosciuto personalmente, se ho scolito di Piero, se passo per essere il sapore della frase, in realtà lui è tutt'altro. Gira in rete, un video fatto qualche, oltre, mi sembra quasi 15 anni fa, in cui scrivo alcune affermazioni e lui non semmai gira la cipetta, quindi qualcuno l'ha visto, sicuramente l'hanno detto, è lui che è uno che ha la querela facile, non semmai sognato di andare a quell'aria, perché lui lo sa, e io ho testimoni, su prove, eccetera, che il signor Tonino di Piero lavorava per conto dei servizi segreti già all'età di 17 anni, quando fu infiltrato nella mia scuola, che erano, parliamo di quelle scuole che facevano quelle azioni di politica abbastanza toste, e per cui da lì, diciamo, lui ha cominciato a creare dei servizi segreti, ha cominciato a delazionarci, in particolare nelle organizzazioni che facevamo in industria, nelle case delle zone dove c'era la nostra scuola, e dove fino a quel momento avevano fatto, praticamente, avevamo ottenuto tutti i risortelli che volevamo, e da quando è arrivato lui, praticamente, è andato tutto a Ramento, ed è stata molto dura, tant'è che poi alla fine siamo riusciti a individuare chi era la d'Alpa, e alla fine noi abbiamo proprio, diciamo, servito a maniera, e quindi, dopodiché lui è sparito, non si è mai diplomato né al proprio di quello che so io, meno che mai lavorato, mai vinto il concorso di polizia, meno che mai vinto il concorso di magistratura, perché con i servizi segreti ti fanno tutti i documenti che vuoi, ti fanno fare anche gli esami che qualcuno fa per conto l'uomo, magari che è qualcosa di svegliere. Ma oggi volevo parlare dell'esito a cui si arriva, e già si è arrivati, perché i primi, i primi proprie, già li abbiamo visti, anche per un anno fa, l'anno fa, quattro anni fa, solo che come tutte le rivoluzioni, sia industriale che sociale, ripartono l'allentamento e poi accelerano nella fase terminale che si rilano a picco, quindi mandando a picco l'ansia così. E quindi faccio una lettura a tratti dell'ultimo capitolo, perché il posto lungo è anche risolto importante, ma è necessario per far capire l'evoluzione della situazione attuale, non tanto solo in prospettiva delle cose che si emergono, diciamo, in maniera relata anche per gli ultimi tempi, cioè l'epidemia, le vaccinazioni obbligatorie, il dream pass, eccetera, che sono tutti, diciamo, tasselli di un quadro molto, molto più grande, che è molto anche spestorato nel corso dei decenni anni e dei secoli, che è partito da situazioni come la rivoluzione francese, la rivoluzione lussa e tantissime altre cose, anche l'unificazione dell'Italia e tutto il resto, come anche tutte le più importanti vicende del Novecento, quindi anche le guerre mondiali, eccetera, eccetera. c'è stato tutto un processo graduale che per mille direttrici, diciamo, poi aggredisco a tenaglia o concentricamente, comunque portano tutti un piccolo grande apporto a quel progetto che rimane in corso da tantissimi anni. Quindi, quello che oggi è in, diciamo, tutti gli occhi di tutti è questa metamostra che sta sfruttando la società a seguito e a causa della, di questa pseudo pandemia che comunque è stata orchestrata in maniera abbastanza credibile dopo aver fatto vari dettagli come con la bialia o con la lingua rossa, eccetera, eccetera, con tutte le malattie che ci hanno fatto credere di esistere dal 2004. E' erano proprie? E' erano proprie? E' proprie tecniche? Sì, proprie tecniche. Proprie tecniche fino ad arrivare a migliorare l'elaborato, a migliorare il prodotto fino a renderlo fungibile e credibile. E quindi, ecco, questa è la situazione, diciamo, generale. Ma in questo libro io ho ricaminato ovviamente gli aspetti economici principali e soprattutto l'aspetto sociale e finanziario della popolazione, non tanto delle grandi imprese internazionali perché quelle, diciamo, saranno le ultime a cadere in quanto la lotta fra i grandi poteri, diciamo, della prioga internazionale, della copola internazionale, rigusa come armi d'attacco o di difesa a seconda dell'atturazione l'uno dell'altro, del grande potere rispetto all'altro e con le guida. Quindi noi ci troviamo a dover diciamo, cominciare a visualizzare, a percepire e ad identificare i vari operatori che sono in gioco in questo momento, in questa grande battaglia occulta che qualche volta emerge in superficie come questa qua, che stiamo vivendo attuale, ma che è costantemente in azione da, diciamo, nella fase più corrente attuale, da qualche decennio, da 78 in Italia, da 64, poi le potremmo prendere, o anche 60 addirittura. Però, diciamo, quella che è più determinante è quella che è l'evoluzione iperbolica che ha subito a partire dal 91 e poi. E quindi questo, diciamo, l'aspetto principale in questo quadro enorme, generale, viene a rendere in considerazione. Cioè, quello che succederà fra pochi anni, in maniera così palese, esattamente come quello che sta avvenendo oggi per quello che riguarda le vaccinazioni, le impasse, eccetera. Cioè, fra 3, 4, 5 anni voi finirete probabilmente l'università, se ci riuscite, non so quanto sia possibile in un sistema macrologo come questo, ma se ci riuscite sicuramente non troverete lavoro. Su questo ci potete mettere la firma 2.000 volte. Scommetterci di quello che avete pubblicato. Io a fare proposito, non ho figli, quindi sono l'ultimo che può dire, ma se avessi un figlio, un caldo universitario non potrei avere, anzi già l'ho vero, forse. Mi sentirei di guardare. No, prendere le armi. Voi dovete prendere le armi. Prima o meno, che sia o meno, fra tu lo sai, sarete costretti a prendere le armi. Io sono un pacifista, sono sempre un antimilitarista, ma quando c'è l'assalto ai diritti essenziali dell'individuo e del cittadino, non c'è altro scambio. Preparatemi bene perché vi aspetterà un futuro di inferno. Io tornare indietro. Non dovete mettere il valore. Dovete prendere con il laureato. Invece mi cercano di fare ingegnere e lavorare. Se tornassi 40 anni indietro, mi metterei in piedi a un idraulico, a un elettricista, a un fabbro, a un marchettista. Poi la cultura ne la fate per conto vostro, leggendo per conto vostro, studiando, a prof. studente, in comprensione, all'università di Italia. Ma Marco fammi cominciare che non ne usciamo più perché la cosa è anche molto lusura. Allora, l'ultimo capitolo di questo libro, che è in 1936, si chiama La finanza postmoderna del delirio e la competizione. Non ve lo leggo tutto, leggerò qualche tratto qua e là, ma è necessario per farvi capire la situazione del fatto che sta evolvendo. Allora, intanto vi faccio vedere un diagramma. Questo diagramma, non l'ho fatto io, l'ho fatto il centro studi della Fiat, quando ancora è la Fiat qualche anno fa, prima, in Tanti Fiat Cicano. Qui ci sono tutti i parametri, come vedete, la fatta originale parte con una, questa è la scissa o l'ordinata, non ricordo mai? Questa è la scissa. Ecco, questa ordinata prevede il impiego totale, il guadagno totale, lo c'altro. Nel punto di crocio, quasi qua, 2020, esitiamo, qui significa che quello che era positivo diventa negativo in qualunque aspetto. Quindi, sempre più qui interverranno le macchine artificiali, gli utensili artificiali, gli strumenti artificiali, le fabbriche artificiali e del lavoro umano a qualunque livello, neppure quello del pediatra, quello dell'avvocato, eccetera, sarà più necessario. Sarà una delle potenziali possibili realizzazioni della propria identità e della propria conoscenza in competizione, come dicevo all'inizio del titolo, in competizione con gli androidi, in competizione con l'intelligenza artificiale, che non fa scioperi, non prepara feri, lavora 24 ore, 24 ore, non fa figli, eccetera, eccetera, eccetera. E soprattutto non costa niente una volta che hai ammortizzato il costo di produzione dell'apparecchio e l'energia che vorrebbe farlo andare avanti. Voi vi trovate in questa situazione? Non l'ho fatto io, ho fatto il centro studi della fisica, una decina da me. Allora, vi faccio un altro, l'altro ieri, ho fatto un discorso che magari senza che ve lo leggo, perché quello è troppo un peccato e magari non è il momento adatto per capire solo entrare nel mezzo. Vi faccio però un discorso che ho fatto l'altro ieri, appunto, a Viterbo. Diciamo che ogni rivoluzione, noi siamo, voi avete studiato ovviamente la prima rivoluzione industriale, no? Quella violenza, no? 1750-1800, che è potuta essere, ha potuto essere una rivoluzione industriale perché creava una nuova forma di energia. Quindi, quando prima di raccontare dei bambini che lavoravano in miniera a scavare il carbone, che portavano i carrelli sulle protaglie per portare il carbone fuori dalla miniera, bambini di 5-6 anni, ed era vero, quello che raccontava lì. La nuova fonte di energia ha risolto un sacco di problemi, perché da un'economia dove l'energia era solo quella umana o degli animali, ha creato un aumento prestazionale enorme, perché attraverso le macchine che convertivano l'energia in azione, in movimento, si è potuto, diciamo, fare tante attività che prima non si facevano, oppure produrre e fare operazioni in numero molto maggiore rispetto a quello che era fino a poco prima dell'iniziazione di questa nuova fonte di energia, o scoperta di questa nuova fonte di energia. Quindi, Marco, scusa, state il film perché no, sono costretto a mandarti un po'. Allora, quindi le varie fonti di energia hanno creato poi a cascata tutte le altre, diciamo, soluzioni per portare il beneficio a un quanto più largo strato di popolazione possibile, ovviamente partendo dalle classi viaggiate a quelle menaggiate, perché è sempre stato in tutta l'era, quindi i maggiori vantaggi dalle rivoluzioni industriali sono sempre tutti i ricchi, che sono diventati sempre più ricchi, grazie alla potenzialità messa in atto da queste nuove scoperte. La seconda rivoluzione è stata quella, diciamo, di inizio del novecento, con la scoperta di rivoluzione interna che ha permesso l'elettrificazione, ha permesso l'entramento delle città, i granciacieli, le fonderie, tutto quello che le conseguono, i garrarmati e così via. Tutte le armi che noi oggi conosciamo, che utilizzano primariamente tutta la prima modalità della seconda rivoluzione industriale. Quindi ogni rivoluzione rivoluzione industriale, la terza ovviamente è stata quella dell'IBM, che ha costruito il Gran Cacielo Computer nel 1941 e poi da lì a discesa, io mi dico, voi non siete troppo giorni, il primo computer che ho comprato io nell'82 era un Commodore che costava un milione e mezzo, erano 3-4 stipendi di un impiegato normale, quindi oggi vi conto 5.000 euro, 4.000, a dicendo poco, che aveva una città di caldo 54 KB, 54 KB, è da ridere oggi. Il secondo poi invece era un Ami20 M24, che è un grande successo, che era 24 MB, no, 20 MB nella memoria del CPU. E poi, successivamente, ho comprato sempre tanti computer, oggi ho un polvare così che c'ha, non lo so, non me lo ricordo più, c'ha un terabyte, un terabyte di memoria e non so quanti gigabyte, mi pare che c'ha 64 GB di RAM, se mi ricordo. Ma soprattutto, Razzo, una volta, tu hai parlato del grattacielo del PDN, una volta un grattacielo ospitava ciò che oggi è ospitato. Sì, no, no, mille volte, cento milioni di volte di meno, no, cento milioni di volte di meno. E' qui che comincia a emergere la disparità tra evoluzione scientifica e evoluzione sociale e dimensione umana. Allora, noi oggi siamo alla quarta e in alcuni casi anche alla quinta rivoluzione industriale. Quindi, che cosa è successo? È successo che la scienza ha sopravvanzato tutto quello che è la struttura sociale, tutto quello che è l'umanità con i propri geni e i propri limiti, e il proprio genio. Geni come il genetico, intendo dire. Questo è chiaro, certo. Cioè, voi dovete fare i conti con il vostro corpo, con la vostra mente, con il vostro cervello, con la vostra capacità lavorativa e elaborativa. Non è una questione di dottrina. Una volta c'erano le dottrine, no? Le religioni, gli ismi, no? I pensieri politici, no? Che hanno creato i più grandi sociali umani. Allora, il discorso è questo oggi. Dobbiamo cominciare a ritornare a avere una dimensione, diciamo, molto minimale della nostra capacità, quanto più cruda possibile, per tornare all'origine della nostra essenza, diciamo, di materia che si putre fa, di materia che decale, nasce, cresce, diventa tutto, decale e muore. Cioè, e questo ci fa tornare alle cose essenziali, perché dobbiamo capire che il mondo, per quanto questa tecnologia 5G o anche oltre, siamo già a 6G, non lo dice quasi mai nessuno, noi dobbiamo fare i conti con un mondo che è diventato completamente irreale rispetto alla percezione dei nostri sensi e rispetto alla capacità elaborativa di quello che percepiscono i nostri sensi attraverso l'elaborazione, appunto, successiva delle cervelle. Quindi noi abbiamo una grande piccolomia fra l'essere, esistere e contare. Noi non contiamo più un cazzo, nessuno, nessuno, tutti sono sormontabili e sostituibili dall'intelligenza artificiale, se non adesso, sarà tra 3 o 4 o 5 anni, sicuramente nel 2050 il mondo sarà detenuto, se non cambia assolutamente niente a livello legislativo, dal potere dell'intelligenza artificiale, a cui magari sarà collegato un cervello del sangue che pensa per tutti, non è un santo scienza, chiaramente, e che porterà avanti un delirio di mondo futuro, in cui l'uomo sarà adorato al stesso senso, senza più augurità, senza più legge, cioè quello che vedete in Terminator, in questi film degli incubi del terrorismo, eccetera, queste cose. Cioè noi vivremo la regola delle cose ultime. Noi, io e lui, probabilmente faremo in tempo a morire prima, ma voi dovrete vivere giorno per giorno con questa realtà o scena. Non è per mettervi in paura, è per dare, io posso considerarmi come i miei figli e forse anche come i miei uomini, vi garantisco di quello che sto dicendo, non me lo dirà quasi mai nessuno. È così? Perché non vogliono che la gente fa... È interessante sapere se già le sanno, perché magari, siccome queste voci girano, questi filmati in televisione... Ma so quello che hanno detto stamattina, io lo so, ho sentito quello che diceva Paolo, l'amico con cui ho discorso, lo so di che cosa vale, so il suo limite dove arriva. Ecco perché a lui, quello che io ho detto, tu e Sara la rifammi è stato bene. Non l'ha capito. Non solo non l'ha capito, non l'ha potuto accettare. Ed è lì il problema. Il problema è che una realtà così non può essere accettata da una generazione come la vostra e anche quella precedente alla vostra, parlo di quella di Paolo, che discute sempre nell'interessere, nella soluzione, nel problema, si creava un problema, la soluzione era già pronta. Molto spesso il problema veniva predisposto dopo la soluzione come ad esempio questa della vaccinazione. La vaccinazione è stata registrata, non mi ricordo in quale stato, non mi ricordo bene, ma è stata registrata in 2001. Cioè le vaccinazioni che sono state registrate come marchio e come iniezione 15 anni fa, l'avanti fa. in quelli che dicono che siano vaccini, in realtà non sono vaccini, ma si chiamano registrate come vaccini 20 anni fa. Ma ti risulta che ci sono 1500 brevetti diversi di coronavirus e questo è quello che hanno scelto perché corrispondiva di più alle evidenze che ti servivano. L'ho sentito dire, ma non lo so. A cui non ho queste cose? Te che sei bravo a fare investigazioni. L'ho sentito dire, ma non ho avuto modo da approfondire anche perché ho altre cose molto più urgenti. Quindi questo per andare avanti. Il mondo futuro, quello che già da domani arriverà, perché vi racconto una cosa che è importante. Questo non è che lo dico perché me lo sto inventando oppure ho avuto delle visioni, delle allucinazioni in questi ultimi anni. No, ve lo dico perché ho dei dati di fatto. Allora vi dico questo, che ho raccontato anche alle persone che stavano lì dicendo lo scorso, e cioè voi sapete che l'industria italiana in gran parte è spaziata per gli anni 80 e 90, andando a ricorrogarsi in Cilina, in media, in Venezia, in India, eccetera. A paesi in cui il costo della manovra, del lavoro, della produzione, della produzione italica è bassissimo, per cui quello che qui costava, non so, un operario costava 1.500 euro al mese per 13 mesi, più le contingenze, gli restamenti, e varie cose, ma costava una cifra enorme. In Cina ho un altro denaro che costava 10-20, 30 volte di meno. Quindi ne fatti che giustamente dal punto di vista imprenditoriale l'hanno fatto. Hanno democratizzato in Cina, in Monedì e in Donedì, e hanno, qui c'avevano 2.000 operai che facevano i maglioni alla Venezia, per esempio, tutti sanno che i maglioni, quelli che fanno i maglioni, forse tu sai che fanno i maglioni, i maglioni ti fanno 5 pezze, cioè le due maglioni, le davanti e le ieri, e un'altra parte che non mi ricordo ma l'era. Non lo so, non lo so, può dare, può essere benissimo. Comunque 5 pezze che vanno così da maglia separatamente e poi unire con un'altra cucitura a maglia, diciamo, finale. Invece un'azienda giapponese, 6-7 anni fa, 8 anni fa, ha messo a punto una macchina automatica, semi-intelligente artificiale, semi-intelligente artificiale notare, che però fa tutto in automatico. Cioè non c'è più bisogno di fare 5 pezze, ma fa l'unico ordino che raggiunge e che congiunge tutte e 5 le pezze in contemporanea. Allora la fabbrica ha ridelocalizzato la fabbrica, cioè la fabbrica che c'aveva nel Veneto, poi ha riportato i macchinari in Veneto, ha inserito nuovi macchinari che mancavano e da 3 anni circa produce nel cervello, non più con i 2000 operai italiani e successivamente dei 2000 cinesini operai in Cina, no? C'ha 8 tecnici, 8, 8 o 9, 8, lavorano su 3 turni e la fabbrica lavora 24 ore al giorno e non producono più 2 milioni di maglioni all'anno, ma ne producono 6. 3. Quindi, fate voi un'attima consideratura. Questo è solo un esempio di una cosa che già esiste, già c'è, lo stesso lo vale per qualunque tipo di lavoro. Vi faccio un altro esempio. Voi conoscete la macchina elettrica a testa, no? Per le messe piraminali, anche perché, no? Ecco, mi guarda che il progetto è di tutto il peggio. Eh, non un masco. Eh? Eh, non un masco, perché io. Vabbè, non me lo ricordo, più un peggio. Uno di quelli in pezzi che ha fatto i soldi? Tesla. No, Tesla l'avamo scoperto. No, Tesla, la marca, Tesla, io l'ho con la macchina di studi. Quelli che hanno fatto i soldi non con l'elettronica, con il pari l'elettronica, con il software. Quella gente lì ha investito giustamente anche in questa roba. E che hanno fatto? Hanno prodotto sia la Tesla che la BMW, la Toyota e altre fabbriche stanno, diciamo, seguendo l'onda di questa roba. Cioè, la creazione di automobili senza guida sopra. Allora, che succede? Che dopo aver fatto i test in laboratorio, i fabbri, eccetera, devono fare i test tra, come si fa per tutte le automobili, anche per le 20-20 anni fa, e allora che cosa succede? Succede che la Tesla, in questi 3 anni, circa, 4, in questi 3-4 anni, ha massato 5 persone. Su strada, non ha funzionato come avete dovuto funzionare, ha massato 5 persone. Allora, uno si domanda, chi è responsabile? Il progettista della macchina? Il progettista del software? L'industriale che lo produce? Diciamo, la configurazione che ha fatto il tecnico? O il proprietario? Il proprietario della macchina che non guidava? Chi è? Il responsabile. La giustizia deve avere un corso, no? Ci sono stati 5 morti, qualcuno dovrà rilascire. Che? Lo sapete voi? Guarda, a dirgli una soluzione. Tra questi 5. Il motto che è così? No, sono tutti responsabili. No, perché non c'è una legislazione alle guardie. Tant'è, nel 2015, i nostri carichi legislati europei, che non fanno una massa, però stavolta hanno fatto delle cose buone, hanno creato 5 commissioni diverse per analizzare i 5 livelli di competenza di campo in cui dovevano andare a riformulare delle modalità di comportamento, tipo quello legale, quello sociale, quello industriale, eccetera, eccetera. E queste cose qua ovviamente devono essere rivalutate, quindi i codici civili, penali, amministrativi, eccetera, devono tutti essere rivisti in Italia e ovunque nel mondo dove viene questa cosa qui, perché non c'è niente di normativo che preveda, quindi di fatto quello non è un reale. Vedete voi? Cioè hanno amassato 5 persone e non rispondono di niente perché non è previsto. Perché chi è oggi che può dire, io lo devo tentare, non lo può dire nessuno, se è il proprietario della macchina, il costruttore, l'esosterista o che sia, che ha amassato 5 persone e che deve ripagare, ma è natura in galera. È chiaro? Tutte queste cose qua, non solo non le sapete voi, probabilmente, non so se le sapete, ma molto, 99,9% di periodo non lo sa, ma seppure qualcuno lo sapesse, non può fare niente e quindi è un fuoco legislativo enorme, è un far west, dove non c'è niente, il predomino è il più potente, il più cattivo. Noi siamo oggi in un situazione attuale, i governi vengono esaurati, i parlamenti vengono esaurati a fuori i governi, i costici, i santocci, tutti tutti, tutti i santocci, sono tutti discendenti da un'ecchia che si chiama gesuitismo, che quando aiutavano, che era una cosa seria, pure se mai stata una cosa seria, ma diciamo apparentemente seria, mi sembra, Clemente XIV li sciolse da compagnia di Gerù e li condannò all'eresia, uno di questi si chiamava Gentiloni nel 1864, ma hai sentito il nome del Gentiloni? Infatti lui dice... Eh? La senti ovvie? No. Non è casuale, quel Gentiloni lì è il pro 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 Nipote di quel Gentiloni là, sempre anche loro colte, sempre anche loro genuita, chiaro? Ecco. Per chi Gesuiti? Perché Gesuiti? Il Francesco sia un grampo della Chiesa che, secondo me, porta avanti... No, per te Gesuiti? Qual è lo scopo di un Gesuita? i servizi nascono da un certo Inigo dell'Oriola, non Inigo, Inigo, che era un ex mercenario che essendo stato perito in battaglia, poi dedicato allo studio legale, andando a studiare a Parigi, mi sembra ricordare addirittura nello stesso collegio, non so se era benedettino, un collegio cattolico, in cui poi studiò anche una schimiliera dell'Oriola, 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 con l'Oriola, altri quattro faranno tutti come lui, intenzionati a, come erano cadetti della loro famiglia, che non ereditavano niente, o facevano il mestiere delle armi, o facevano i brevi, o facevano gli eremiti, non è che c'era molto da scegliere all'Oriola, o se no facevano il popolano, e quindi, d'accordo con gli altri figli di Androcchia, come si dice nel Salento, che ha fatto? Ha deciso di venire in Roma e di proporre, palpava, un'armata a difesa del papato, a difesa dell'evangelizzazione del nuovo mondo, che era una cosa pericolosa, quindi serviva una, diciamo, schiera di sacerdoti armati che difendessero e propagassero la fede nel nuovo mondo. E quindi andò e parlò con Paolo III, la prima volta che era Paolo III, e gli raccontò di questa sua intenzione, e lui invece, terci versò, poi è morito a un uomo, fu eletto in un altro uomo, non mi ricordo, un bicchiera, comunque nel periodo lì, attorno al 1565, più o meno, e lì la gente cominciò a, cioè la gente, l'opinione pubblica, cominciò ad essere, diciamo, interessata a questa organizzazione, tant'è che mi pare che c'è Paolo V Farnese, o comunque un farnese, non mi ricordo se era Paolo V o Paolo IV, veni fuori Paolo V. Ma di cui parli, come un periodo di differenza, c'è Paolo III, morto a 1549. E allora è forte da Paolo V? Farnese. Vabbè, insomma, parliamo a 1865. No, 500, stava parlando a 500. Eh? 500 stava parlando. 1565. Lui è morto a 1549, successore... 1565. Un diverso. L'anno di fondazione dell'erogia di giro. Poi, se era il mio terzo, Paolo III o Paolo V, non me lo ricordo più. Mi pare che era. Vabbè. In ogni caso, o l'uno o l'altro, dopo finalmente il terzo del tarivo, riesce a trovare un interlocutore che crede quello che dice e te crea questo. Non vi dico che cosa l'ho combinato perché è veramente... Io quarto, io quarto, fine di 1565. Vabbè, non mi ricordo più. E poi io quarto. Parla fine. No, più quarto, più quarto. Vabbè, non me lo ricordo più. Quindi, incominciò questa operazione di attacco verso i paesi non cristiani, è anche una scala all'interno della legge archiva di Cane. Tant'è che appunto nel 1864, 1865, da franca lì, da 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 lì. Comunque, mi pare che era Clemente, il quattordicesimo. Musi, 500, non 1800. No, parlo della scomunica, della compagnia di giù. 1700 stricci. Ah, sì, è vero. Ho detto 1700 e 1600. Vero, certo. Vabbè, insomma, anche io ho combinato. Prendi nel 1990. Quello che è importante è quello che è successo. Sì, c'è leggero, nel 1700 e nel 1600. Perché? Perché scomunicò i geruiti, lì, come si dice, quando un papa dà la scomunica, non viene la parola. C'è una parola che è viola, ma non mi riesco a ricordare. Soppresso la compagnia e la scomunicò. Guarda, c'era un'altra parola che non viene la scomunicò. C'è un fatto che sta, che da quel momento lì furono messi fuori legge, i vari gruppi, perché erano scomunicati, scusi, in tutto il mondo conosciuto, i gruppi della scomunicò, furono, diciamo, perseguitati anche seriamente. Seriamente, da Gregorio XIV. Morì stranamente un anno dopo aver preso questa decisione. Ricordatevi che poi la nomea che, diciamo, portarono avanti nel corso delle decole. I centruiti era che erano dei grandi, diciamo, doppio giudizi e soprattutto dei grandi aggressori alla realtà costituita, alla realtà, proprio all'ordine costituito e alla società costituita, andando ad agredire le pupole, le tribunali poteri. Hanno avanzato centinaia di relazioni del governo, non qualcosa, centinaia. Andate a leggere la vera, perché c'è anche la storia, la storiografia ufficiale, quella che dipinge perfettamente con i perfetti esseri umani, amorevoli, eccetera, i gesuiti in realtà sono state tutte delle grandi carone, anche persone intelligentissime, che sono passate dalla storia, tipo Francesco Saverio. Francesco Saverio è stato uno che ha evangelizzato la Cina attorno al 1650-1680, quegli anni lì. Quindi ha fatto anche delle operazioni a vantaggio del Vaticano e direttamente anche italiane e forse anche nostre, perché ha cominciato a rapinare tutto quello che è più buono e poi hanno seguito anche la monantia inglese con tutte le varie guerre della droga, dei boxer, però viene a dire che Francesco Primo ha preso il nome non da Francesco Avocolo dell'Italia, ma da Francesco Lorei. Perché quel carone è anche una grande mente, una grande sintomatica, una grande scienziata, però ha anche una gran carone. Quindi per tornare a noi e cercare di dare un senso a quello che abbiamo detto, la cosa essenziale da tenere presente è che il mondo che arriverà sarà un mondo controllato dal grande fratello, dalla grande intelligenza artificiale, che poi nel grande fratello ci sia anche una base umana, nel senso di persone umane, un numero di stretti di persone umane. Questo è anche possibile che sarà, che sia, però io in questo momento lo vedo molto male. Già questa cosa qua non è nata oggi. Qualcuno che già aveva avuto la possibilità di accedere a certe forme di studio, di ricerca, eccetera, tipo per esempio Isa Karmus, che forse conoscevi immagino, che è stato un grande sottotitore di fatto scienza, ma è stato anche un grande scienziato, lui già nel 1942 e poi nel 1952 ha rivisto le cosiddette tre leggi della robotica. Lui aveva già immaginato il robot con l'intelligenza artificiale, cioè un anno dopo la creazione del grattacielo informatico, aveva percepito e sapeva che era possibile riuscirlo a fare, perché poi ci ha scritto tutta una sacra di libri, non uno, ma qualche, credo una decina di libri, mi ricordo quanti siano, perché io lo letto quasi tutti, ma insomma era un certo numero notevole, in cui immaginava lui una nuova società, in cui c'era questa compartecipazione fra gli umani e gli androidi, che aveva questa dialettica, che appunto erano state messe in piedi queste tre leggi, poi quattro leggi della robotica, diciamo un facsimile delle altre leggi della termodinamica, in cui individuava appunto le normative che servivano per gestire l'intelligenza artificiale in modo che non fosse in danno dell'umanità in generale, dell'essere umano. E aveva visto ovviamente dei blocchi dell'intelligenza, aveva immaginato mettere i blocchi dell'intelligenza artificiale in modo appunto che si comportasse in determinato modo e non prevalesse sull'umano, ma forse semplicemente un'equazione deliberata fra gli umani e gli androidi. Ecco, questo è possibile. Oggi è possibile ancora farlo, nel momento che siamo agli inizi, ancora proprio nel ruolo, ma la questione l'ha fatta e appunto per questo la Commissione europea, sono state eseguite queste cinque Commissioni europee che proprio hanno l'impegno e l'obbligo di cercare di trovare appunto delle possibili soluzioni legislative riguardate, riguardate anche gli altri che riguardano, ma proprio per dotare l'umanità di queste discipline che oggi per noi non esistono ancora. E' un modo da poter veicolare questa nuova nascita di nuova entità senziente, di questa nuova genere senziente che abbia la possibilità di gestire in maniera positiva e collaborativa la loro potenzialità che sarà sempre più ampia e sempre più forte rispetto del genere umano, dell'essere umano, che appunto altrimenti sarebbe subcube, diventerebbe da dominatore del mondo attuale in cui noi ci troviamo, nel giro di una quarantina, una quarantina di anni si troverebbe da essere, diciamo, soppiantato come il genere, come mia dominante di tempo e quindi questo va al fatto di tempo. Come tante altre situazioni prima di questa, quando si inventa qualcosa prima di metterlo a disposizione... In questo caso ci sono manuali d'uso, ma quando voi comprate uno smartphone, quello qui c'è l'attuale manuale d'uso che ti insegna come utilizzarlo. Allora, da un momento... Noi dobbiamo mettere in piedi un manuale d'uso e non si riguarda tutta la scienza umana, gli anni della scienza e della loro scienza. Ed è questo che è un distacco, una riconoscenza totale in questo momento. Cioè, siamo, diciamo, assistendo a un spettacolo di una di una reazione tra genere umano, potere umano, controllo umano del pianeta, controllo umano di tutto quello che è, diciamo, l'aspetto della gestione del potere in generale, sia per l'umanità che per quello che riguarda l'ambiente, gli animali, etc., e viceversa il potenziamento esponenziale. Noi rimaniamo sempre allo stesso modo, mentre gli altri, invece, gli altri degli androidi stanno occupando un'accelerazione violenta che nel giro di pochi anni ci troverà sul punto. e quindi ecco perché bisogna cercare di far mantenere questa collaborazione, diciamo, collaborativa, diciamo, complementare l'uno all'altro, in modo da non essere in competizione noi con loro, altrimenti saremmo perdenti e saremmo nessuno. Sì, ma qui la competizione è tra il popolo, cioè tutta la massa di cittadini del mondo e quelle pochissime rite che gestiscono... ma anche la borghesia sarà con questa comunque, quindi la piccola, la grande borghesia che sarà la stessa che rimarrà probabilmente da quello che da ipoteti che sono state fatte in tante occasioni in ambiti diversi da personaggi anche molto attendibili, rimarrà una popolazione di un milione, due milioni, cinque milioni di persone che vivranno in un russo stranato senza limiti, anche perché vivranno in un ambiente completamente distante l'uno dall'altro non ci sarà un accordo locale probabilmente tra loro, come l'aveva messo anche Arimo e che appunto, secondo me adesso, lo pensate, non so, l'ho letto 40 anni fa, 30 anni fa va bene, questo è la relazione, quindi... No, aspetta, quello che volevo dire è che non hanno nessun interesse, così, coloro che gestiscono di mettere una regolamentazione, perché il potere loro già ce l'hanno, perché dovrebbero regolamentare e i politici sono dei pantocci, quindi non saranno certi politici a imporre queste regolamentazioni nella storia, fino a dopo, noi abbiamo assistito a dei fenomeni diversi sono stati persino capaci di mettere fuori legge le armi chimiche, le armi nucleari perché hanno riconosciuto che sarebbero state in grado di distruggere completamente il mondo di questo argomento non è stato ancora fatto, secondo me siamo noi popolo che dovremmo imporre noi e dire, sentite, ci avete rotto che volete comandare voi adesso questa roba è fuori legge, basta, non si fa più, perché, capito, non sarà mai controllabile dal popolo, perché le industrie, cioè non è che noi possiamo portare quindi se questi continuano a inventare tutto quello che vogliono, è chiaramente inventeranno degli strumenti che se li utilizzassero come stanno facendo ci metterebbero gli schiali, cioè il gico e il gico ma è molto probabilmente che potranno poi sganciare qualche bomba d'oro ci faranno sganciare l'un l'altro del bomba d'oro è vero che ci sono, non so se stai, stanno creando una città sotterranea all'isola di Tlalba, non è una cosa che sto raccontando, una facessa, è vero ci sono vari documenti da cui provano, stanno creando una città sotterranea enorme capace di ospitare centinaia e migliaia di persone per tempi lunghissimi se dovessi esserci una guardia nucleare, una contaminazione particolare non lo so, certamente è un rifugio per alcuni personaggi eccessi non per te, per me e per loro il problema che lui ha accennato l'esigenza che riesci di far presto a capire questa risposta ma mettendo pure tutto il mondo, tutti i popoli te lo scuse però sì sì certo quello che lui ha accennato, appena accennato ma che è stato comprensibile è stata una cosa che poi è una conclusione di quello che vuoi dire che sto dicendo è che in tutte le epoche abbiamo esaminato diciamo, una caratteristica però c'è le varie produzioni industriali ma le produzioni industriali quando vuoi comprare un nuovo apparito di qualunque genere anche l'automobile va dalla scuola guida no? perché? perché dovessi essere capace di guidarlo allora intanto ho considerato una cosa importante che da un quarant'anni adesso è stata riammessa a scuola ma fino a quarant'anni fa si studiava diritto anche a scuola c'erano due ore di educazione civica educazione civica c'erano due ore settimane delle scuole superiori c'erano due c'era il manuale del cittadino uno studiava ragazzino 15, 16, 17, 18 anni leggeva magari in perlini fumava in classe faceva casino no? ti ricordi? però qualcuno ci dice questo ci dice quell'altro e il professore ci raccontava e ci dava qualche emozione per diventare cittadino poi siccome non serviva più un cittadino cosciente consapevole hanno tolto anche quelle due miserabili ore di educazione civica per cui la vostra generazione è nata e cresciuta senza avere nessuna indicazione di quello che è il diritto del cittadino tranne di quelli che studiano giurisprudenza e anche male senza avere avuto il tempo di riflettere in gioventù su alcuni argomenti magari arrivi anche abbastanza impreparato quindi c'era bisogno e questo serviva serviva il potere di avere allora noi noi abbiamo fatto dal 68 abbiamo avuto tutto il tempo di studiare tutti i vari filosofi dell'epoca da Marx a Engel eccetera eccetera e quindi c'è stato il tempo per maturare nelle riflessioni e quindi ognuno di noi poi ha fatto le tre scelte di campo c'era chi era nazista maoista c'era chi era fascista cioè di noi aveva la sua identità mentre fila una collocazione filosofica intellettuale anche di baricata perché in quel periodo stavano anche gli avversari politici non è che si scherzava sono morte parecchie ricine di compagni di amici o di camerari chiamano le parole capito? quindi è stato un periodo anche abbastanza tosto duro ma era un periodo in cui c'era una passione c'era la convinzione e la passione di essere portatori di un verbo che sicuramente potrebbe essere interessante per altri e questo ci ha portato però poi gradualmente questo riparamento intellettuale e filosofico ci ha portato l'audizione in cui non c'è più nessuno tranne l'amico Paolo che dice che è marxista leninista che è non lo dico perché stiamo registrando capito? quindi è questo il discorso cioè non è più possibile affrontare le problematiche gravissime che si stanno trattando adesso senza una preparazione culturale adeguata è questo che è l'amico cioè noi ci ritroviamo a avere in questa situazione e questo che c'è maio non è in tutto il tempo che esiste il dono sardine cesare che più o meno sono 30-40.000-50.000 anni già perché se è evoluto in sardine cesare noi abbiamo avuto la prima rivoluzione dell'agricoltura no? che da nomadi siamo diventati agricoltori coltivatori e quindi sarà quello il primo salto quantico che ha creato la società che poi ha creato la cultura una cultura ampia prima non c'era la cultura c'era quella verbale quella che tramandavano i nonni e i nipoti anche all'epoca però limitata dopo avendo la sedentarietà c'è stata l'invenzione della scrittura quindi tutta un'evoluzione che ha portato a contemporaneamente a avere degli strumenti di rivoluzione e anche i manuali per utilizzare gli strumenti che c'era la scrittura uno leggeva e si adeguava alla rivoluzione la stessa cosa per la terza perché per esempio il maniscalco che serrava gli oralli è diventato quello che costruiva le carrozzerie dell'ambiente automobili oppure quella della terza rivoluzione la terza rivoluzione che abbiamo vissuto da ovviamente nella fase più evolutiva da 65 70 in poi ha portato però a quelli che fanno i webmaster quelli che fanno gli informatici quelli che fanno gli assemblatori dei computer cioè tutta una serie cioè quella gente che prima faceva altri lavori semplicemente dovuto imparare a fare un altro lavoro che sarebbe guarda da qualche anno hanno messo i vari comuni che hanno messo in piedi una serie di corsi di aggiornamento per quelli che perdono il posto di lavoro ma mi dici te dove cazzo vanno a lavorare questi che gli voglio insegnare quando c'è qualcuno che lavorerà meglio di lui più velocemente di lui non farà mai eccetera è una presa in giro non si rendono manco conto i nostri governanti di essere dei fardoccoli cioè delle dei dei superficiali con gente incapace di intendere già solo quello che qualifica per quello che stai un'affermazione del genere Quindi il problema è che fino a poco tempo fa, fino a 10 anni fa, probabilmente effetti facevano ingegneria informatica, avete un posto di lavoro, quando io ho finito nessuno dei superiori, io ho fatto l'istituto tecnico, ricevete due telegrammi, due telegrammi all'epoca, nel settore uno, una dell'Italia e una dell'olivetti che mi volevano lavorare. Senza che io avessi fatto una domanda, mi proponeva uno stipendio, uno stipendio iniziale per 6 mesi, 120 in Alire, che era un buono stipendio, più vitto alloggio nel loro college per 6 mesi per imparare a usare il mestiere, a fare il mestiere o in Italia o in Olivetti. Allora Olivetti era a livello mondiale uno dei primi, molto più degli giapponesi, è stato l'inventore del primo PC, personal computer, è stato l'Olivetti, nessuno lo ricorda mai. Vabbè, e io ho rifiutato, perché allora avevo altre idee, vabbè, è stato rifiutato sia l'uno che l'altro. Questo è per dire, vi ha scritto mai qualcuno a voi per cercarmi per dare segno al lavoro? Pensate di cercare a me qualcuno in futuro? Non succederà mai. Eh? E loro mi dicono, ma che cazzo studia da fare? Vabbè, uno studia per sé, dai. No, qualcuno studia per sé, per il suo arricchimento personale, se lo fate per quello studiate tutto il tempo che vuole, perché adesso, se, allora io vi ho disegnato un mondo catastrofico, in realtà potrebbe essere l'arquinto dell'emancipazione dal lavoro. Cioè, l'uomo potrebbe non avere più necessità di lavorare per vivere, quindi dedicarsi all'amore, dedicarsi alla nazione, dedicarsi alle ricerche, a qualunque cosa che mi piace fare, non avendo più l'assilo di dover andare a fare obbligatoriamente i corsi universitari delle nove, dalle nove a mezzogiorno a luna, al pomeriggio poi, e poi magari pensare a entrare nel mondo del lavoro, lavorare 35 ore settimanali, no, avendo i bambini il tempo di andare a allattare il bambino, tornare a casa, forse avanti indietro con lavoro, cioè non c'è più bisogno di questo. Se ci mettiamo d'accordo, e lo facciamo eliminando la cupola, la cupola mafiosa che ci sta portando a questa devastazione, a questo dirupo epocale, potremmo avere un mondo veramente, un paradiso in terra. Non è un paradiso, non sto dicendo così tanto per dire, è possibile, oggi è possibile, perché mentre l'energia che veniva scoperta nelle varie altre rivoluzioni industriali serviva semplicemente a riempire di oggetti che sono fatti prodotti in maniera industriale a casascio, senza nessuna, magari, specifica domanda da parte dei consumatori, ma semplicemente perché il proprietario pensava di produrre quello, perché quindi ci sono magazzini che ne stracolmi di cose inutili che non saranno un po' più dovrebbero buttare. E viceversa, oggi, con questo tipo di coscienza e di scienza, è possibile fare un controllo, millestraneo delle necessità dell'individuo e quindi poi portare il benessere generalizzato che non è mai stato realizzato appunto nel corso dei 3.000, 4.000, 5.000 anni della nostra società. Questo è possibile, quindi quello che tocca a noi che sappiamo queste cose è di cercare di rendere gestibile, di rendere in qualche modo fruibile attraverso la partecipazione a questa gestione tutti questi benesseri che possono riuscire a portarci a un livello che tre volte sappiamo, 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 sappiamo. Potrebbe essere il momento di fare un salto quantico, essere il momento che dovrete, deve necessariamente essere un salto quantico, perché tutte le problematiche che ci svolgono oggi di fronte, sia quella mentale, strasputtanata, stramistificata e compagnia bella, ma quella reale di questo assalto dittatoriale all'identità personale, ai diritti individuali, eccetera, è questa contemporanea assalto da parte della tecnologia e della scienza che ci vede in perdita, perdenti. Quindi è una qualcosa che può essere vinta, si tratta semplicemente di cominciare a pensare direttamente che in PIS abbiamo un problema o una grande formatoria di problemi che non si è mai litigata prima nel corso della storia umana e che oggi dobbiamo risolvere. Questo è il problema. Non il Green Pass o la vaccinazione, certo, anche quello, ma alle spalle è molto più reticato, molto più profondo, molto più grave e assolutamente... Energia. Benefica. Può portare alla distruzione del genere umano in un po' di circa due o tre generazioni, se non ci mettiamo in accordo. Non solo a partire da loro, ma anche alla distruzione sociale e alla distruzione del tessuto sociale in generale. E poi non solo quello, anche la perdita di identità individuale, quindi la perdita di autoreferenzialità, psicologi, psicologi di vario genere, tutto quello che potete pensare di peggiori. Quindi per evitare questo occorre rincominciare a pensare a come gestire questo nuovo potere, questa nuova energia che ci deriva dalla gestione dell'intelligenza. Va bene. Ho finito, se vuoi fare le domande, prego. Avvicinati, avvicinati. No, devo anche essere dietro, se non sono le domande. T'ho distrutto un paradigma, t'ho distrutto un paradigma. Queste cose qua, i nostri cari governanti, i nostri cari politici, non solo non ve le dicono, ma molto spesso non lo sanno neanche, non lo sanno neanche. C'è qualcuno dell'età, io so che c'è qualcuno, conosco anche qualcuno dell'età, qualcuno a cui anche io ho contribuito a dire delle cose. Quello che sto scrivendo nei miei libri lo detravo da esperienze personali, del 90% delle cose. Quindi avendo lavorato io, ho lavorato 18 anni nelle telecomunicazioni, dal 94 nel momento dell'alimentazione del mercato, fino al 2011-2012. E quindi ciò che stanno ricordate altamente. Passate, lo smart working, noi lo avevamo già con Fasco, in particolare, ma a casa l'ultima mia. Io ho lavorato nel 2001 con Fasco, e ho lavorato un po' d'anni e poi sono andati al paramento. Con Fasco, già nel 2001 e poi nel 2002, ho fatto una serie di seminari a Genova, dove era la serie principale. in corso di varie settimane, dove facevano le prove di connessione di smart working, nel 2001. Noi già lo facevamo, ne andavamo, andavamo proponendole alle aziende multinazionali che non lo volevano. Non lo volevano, perché era troppo avvenilissimo rispetto a quello che era la loro necessità. Però, adesso, hanno fatto in modo che lo smart working diventasse necessitario. È chiaro. Come? Hanno fatto in modo che diventasse necessità di 5G, perché il 5G non serve assolutamente niente, tranne agli spanettoni che devono, come forza, salire di quello del 24, ma in due cilinisti, e lasciacassi, davanti a morire, e viceversa... Beh, una funzione... ... di 4G abbassava a calzare. Una funzione ce l'ha, 5G, una funzione ce l'ha. E controlla. Certo, servire per il controllo. C'ho una domanda, un pensiero che... Vieni, mi diceva, non capisco, non capisco, non è già tu. No, secondo te... Aspetta che vengo lì. Se tu non... Ma che cosa vuoi parlare? La montagna è la... Secondo te, una società, questa, questo tipo di fibrillizzazione in cui siamo, è da lasciare... Quasi è morente. È morente, quindi pensiamo, perché no, perché ci stanno due punti... Ma se ne fanno esatto quanti in maniera eccellente, positiva o costruttiva, oppure esatto quanti con degenerative? Eh no, perché ci stanno... No, però non può, ma non è... Non è sufficiente per spiegare... Lascielo dire, ragazzo, se no... Non è sufficiente per spiegare tutte le varie, diciamo, articolazioni in cui la nuova scelta, la nuova scelta ci sta cadavutando. Cioè la nostra cultura, la nostra conoscenza, la nostra parola, le parole non sono sufficienti per gestire quello che si fa nel mandato. Anche la terminologia, e questo lo raccontato, io lo spesso in maniera, diciamo, abbastanza comune, no, un linguaggio contenitivo, però, per esempio, lei sta dicendo due cose, perché non riesce a immaginare una cosa di genere. da una persona che sta attenta, che ha sfruttato, che ha cercato di capire, non riesce a combinare e a far inserire nei vari pastelli della memoria e della conoscenza quello che sto dicendo in maniera, diciamo, comprensibile e anche desplicabile. Quindi, ok, e il dubbio, anche in questa lotta sul Green Pass, è una lotta contro un potere. Perfetto, quello è, diciamo, il simbolo del potere che eserisce e che viene all'ordine. Perché in questo momento, sul cellulare non devi dare quell'ordine. Il nostro prete è scritto la mia vita, in questo senso di un cellulare. Ma però, per la domanda che c'ho, che è a livello strategico, cioè comunque noi ci stiamo confrontando con un nemico sul suo terreno. Mi sa, è un terreno, è un terreno, bravo. C'è, c'è, è con me. Mi spiegaci. Per cui si è, esatto. Sì, quale può essere quest'altro terreno, un terreno... Eh, ci sono. Allora, tra le cose che stiamo facendo in questo luogo, è fare incontri che favoriscono, favoriscano queste lezioni. Cioè, che cosa... Dal momento in cui c'è qualcuno che sta inventando un mondo nuovo, e lo sta facendo attraverso le tecnologie, perché in quegli altri, c'è anche il potere economico, vanno le industrie, e stanno seguendo il filone, il flusso, da cui si proviene, hanno inventato quelle cose, e continuano a inventare quel tipo di cose. Non si stanno ponendo delle altre domande, che sono quelle che ci stanno ponendo noi. Che fine faremo? Che fine farà la cultura? Perché a quel punto non servirà più la cultura. Cioè, gli esseri umani non serviranno più per come sono. Perché noi potremmo servire se qualifassimo le loro macchine. Cioè, siamo noi a motivare i computer, non più il computer che ci aiuta a noi. Siamo noi, perché siamo ancora utili per un mondo completamente robotizzato e informatico. Noi serviamo le cose. Quindi, che dire faremo così? Infatti, la fine che stanno programmando, probabilmente, che noi facciamo. Cioè, spaventare. Quindi, è chiaro che noi ci dobbiamo potre queste domande, ci dobbiamo interrogare che cosa c'è di possibile, diverso da questo, che non può essere neanche quello di prima, perché indietro non si può tornare. Quindi, non ci torneremo più alla vita di mio nonno, di tuo nonno, di tuo padre, che probabilmente ci ha detto. Questo è il racconto di ambientalisti. Non ci si torna più, questo è la nostra gira ormai. Quello è il racconto di ambientalisti. È ormai introponibile, perché per mille motivi non si può più vivere, come appunto dice anche lui, come i nostri bisnonni, nelle campagne. Si può vivere nelle campagne, ma in un modo diverso di quello che noi. Noi ce lo dobbiamo reinventare un mondo che sia compatibile con ciò che è il flusso. Capito? Noi o subiamo il flusso che potrebbe essere un ciclo di 200 anni o magari anche solo 50. Guarda, mi è giusto la tua... Aspetta, la sua cosa è importante, perché può darsi che naturalmente, anche questa cosa, naturalmente, nel senso, noi potremmo anche non intervenire e questa roba crollerà, perché a un certo punto chissà quante volte magari ci sono state già delle civiltà che si sono distrutte da sole. Sì. Però, e poi si sono riformate, perché tant'è che noi troviamo dei reperti, delle cose strane, no? A quanto si è riportata la peste del 1348, quando in Europa complessivamente c'erano circa 50 milioni di persone, più o meno le cittadini sono morte. tant'è che l'economia in Toscana, in particolare, è corollare. Uno pensa, ciò ciò, quello che, che non hanno capito i nostri cari governanti, quelli della luce o per i loro, è che non è che ammassandoci ritornano il problema loro relativamente, perché ci hanno gli androidi che sono in mente a disposizione, ma nella situazione diciamo formalizzata secondo gli stereotipi diciamo, tradizionali. In, per esempio, in Toscana c'era più o meno la metà della popolazione di Cerafino e uno pensa, beh, la metà che è sopravvissuta ha ereditato quella che è morta e ha ricadoppio, invece no, perché il processo potrà, siccome c'era davvero l'altra disponibilità di merce e di beni sul mercato, i beni non valono più niente, per cui comprare le cose, c'erano i soldi, ma le cose non valevano più allo stesso modo, capito? Quindi, la gente deve trovare in realtà più povera di prima. E' un po' come insomma, noi pensiamo che si possano risolvere, che le cose si risolvano da sole e le cose si risolvono da sole, ma con i cicli delle stagioni, insomma, no, e torno all'estate quando la polona di mavera il sole riscaldano e ci sono più due ore di tracciamento, ma se il ciclo di questo fenomeno che si sta verificando prevederà un certo numero di anni, prevederà un certo livello di distruzione, noi lo subiremo a quel punto, potersi che il poltore sopravviverà, ma lo sapevamo dopo che gli accadimenti si sono stati più morti, invece, secondo me, quello che dovremmo avere la maturità come alcuni individui, se riuscissimo a coinvolgere una parte della società, dovremmo avere la maturità di capire che il nostro intervento, cioè noi dovremmo diventare parte della natura che compie il ciclo, cioè noi dovremmo arrivare a capire come farlo a finire perché riprenda in maniera fluida, perché qui si stanno creando delle alterazioni tali che ci governano. Detto su un altro piano, quello che normalmente condiziona il flusso dei cicli della vita sono principalmente dei fattori di debolezza, nel senso che ci sono le forze e le debolezze che determinano i cicli ma queste forze e debolezze possono essere semplicemente quelle naturali oppure noi possiamo intervenire con una nuova forza secondo me la nostra nuova forza deve essere quella di controllare le debolezze dell'essere umano per arrivare a spiegare ancora meglio psicologicamente quello che sta accadendo è perché qualcuno che ha tanto potere ha la possibilità di concedersi queste grandissime debolezze che sono che sono le paure le paure le debolezze quando uno ha paura di qualcuno di qualcosa cerca di costruirsi degli strumenti per difendersi ma non sta rinforzando se stesso si sta rinforzando attraverso gli strumenti per cui più strumenti ha e più debolezze si può concedere e non so se voi sapete che ci sono traffici di esseri umani c'è l'ambizione di non essere mortali di possedere il desiderio non so di amare qualcuno a prescindere dalla sua volontà di possedere più rinchezze più bene quindi queste sono tutte forme di debolezza non possiamo consentire a una in una società che si è evoluta con degli strumenti tecnologici così sofisticati e potenti non possiamo più consentire che ci siano delle persone che hanno delle debolezze così grosse così accentuate e che gestiscono lo scotere insomma Berlusconi ci siamo accorti il poverino è stato carinissimo con noi però ha fatto le cose un po' arrazzate un po' in vivo per il duolo che aveva quindi più debole diffusione di un individuo che mascheravano questa sollebolezza con la forza non dovrebbe succedere no? giusto che ti dico l'esempio di noi di rititolaggio dell'essere umano quanto può avere in basso ecco morra la maggior parte dei leader del mondo in questo periodo ma lo è stato anche nel passato nella storia lo stavano con i mani di gotta perché avevano il peccato della gola che è una debolezza non ti rendi conto che stai stavano con un maiale e te 60 no? quindi le debolezze noi come essere un marito dobbiamo cominciare a controllare di più le nostre debolezze poi che anche tu è umano l'abbia fatto però in questo momento questo fenomeno secondo me è un problema perché questa gente che tiene il potere ha delle novi debolezze è abbastanza chiaro quindi noi con la ragione dobbiamo interferire con questo flusso e dobbiamo concepire quindi delle nuove possibilità ecco non è che è una cosa immediata semplice però nel frattempo queste cinque commissioni della comunità europea che dicevo prima partoriranno una cosa nei prossimi anni forse già qualcosa che avessero fatto non mi sono più documentato da un po' di tempo ma probabilmente già con una registrazione adeguata e interi queste problematiche che dicevamo magari qualche soluzione già anche intermedia potrebbe essere già un'altra produzione quindi con un cellulio mai dire mai finché non è già lato l'ultimo del sfiro perché magari all'ultimo momento quando vedi che tutto sta precipitando come che ne so l'arrivo della bomba atomica in testa magari la risinnesca non è infainata e quindi non so come perdo insomma e quindi magari si riesce ad eliminare quel tram che era previsto che in realtà non si verifica più che nel sattempo credo diciamo adeguato a qualche modo di la visione diciamo è molto ampia giustamente come diceva lei bisogna rigerire queste cose se è la prima volta che sentite argomenti di questo genere è chiaro che scombussono un po' tutta l'esistenza proprio perché l'abbiamo chiamata le lezioni di storia vera perché se ci raccontano la favoletta che quel imperatore ha conquistato per l'altro qualcuno conquistato per l'altro può essere poi i secoli dopo è una storiella molto semplicistica in realtà dietro ci sono degli intrini pazzesi e questo fa trollare tutta una serie di certezze però poi acquisito cioè per me ho detto questo percorso quindi poi si arriva si giunge a una comprensione di questo quadro generale ci si può andare e quindi anche controllando poi si ha intervinte e si ha trovare delle soluzioni però ecco è un percorso che fa e secondo me è fondamentale che si comincia a fare insieme è proprio scambiare le conoscenze Pietro chiudi 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 concludi sì bene questo questo dobbiamo scambiarci le conoscenze per trovare delle soluzioni condivise ok